buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde questa puntata sarà dedicata al docente tutor a questa nuova figura e alle indiscrezioni che provengono dalle stanze ministeriali si sente tanto parlare del docente tutor molti si chiedono di cosa si occuperà questa nuova figura e come sarà anche definita contrattualmente diciamo che ogni scuola secondaria di primo e secondo grado individuerà tra i professori in organico a tempo indeterminato dunque professori di ruolo che occupano un posto nella scuola a fare il docente tutor si tratta di figure chiamate a svolgere la funzione di tutor di gruppi di studenti in un confronto continuo con lo studente con la famiglia e con i colleghi chiaramente saranno sia studenti che hanno delle fragilità di natura didattica di natura psicologica e sia docenti invece che devono potenziare il loro grado di già avviata eccellenza ogni studente verrà seguito dal tutor nella fase di orientamento e nei momenti di scelta dei percorsi di studio o di attività di lavoro tale figura dovrebbe esordire a partire dall'anno scolastico 2023 2024 e trovando un accordo con i sindacati perché già si ne sta parlando dovrebbe essere definita giuridicamente dicono che economicamente nel prossimo contratto scuola domanda numero due come verranno scelti i docenti tutor e come verranno formati a svolgere il loro ruolo all'interno delle scuole il ministro valditara ha dichiarato che i docenti tutor si potranno proporre su base volontaria i sindacati già propongono anche il criterio dell'anzianità e dell'esperienza per accedere a questa funzione e verranno formati con specifici corsi di formazione coordinati dai nuclei di supporto istituiti presso gli uffici scolastici regionali domanda numero 3 quanto guadagneranno in più questi docenti tutor questo potrà essere deciso solo attraverso un accordo contrattuale che al momento essendo solo ai primi confronti su questo momento non c'è stata l'opportunità di definire ecco anche quanto potranno guadagnare questi docenti per adesso non sono previsti grandi risorse finanziarie per questa figura per cui sembra che il tutto vada a ripercorrere le orme del tutor interno del pcto speriamo che le risposte a queste domande a queste curiosità di questa nuova figura di questa riforma prossima della scuola sia stato di vostro gradimento soprattutto utile e seguiteci nei nostri canali social facebook instagram e nel nostro sito www.tecniche della scuola tratteremo sicuramente tematiche come questa e anche molto altra ancora arrivederci a tutti